non sarà un giorno qualunque per campobasso i campobassani il venerdì santo è il giorno della processione del teco vorrei uno dei simboli della città con il suo coro possente e quell'inno che trascina e unisce nella commozione un popolo intero che siano persone credenti oppure no non ci sarà la processione che con quel canto accompagna la madonna addolorata e segue il corpo di cristo deposto dalla croce è stato chiaro fin dall'inizio del contagio che l'infezione e le misure per contenerla avrebbero tolto alla città quel suo simbolo sacro così caratterizzante e il silenzio che di solito caratterizza le ore che precedono la processione con le strade del centro chiuse al traffico sarà l'unico elemento che in qualche modo ricondurrà a quell'atmosfera così carica di emozione così piena di significato piazzetta palombo luogo ormai simbolo per il coro che si ritrova via marconi la salita di sant'antonio abbate i vicoli del centro storico e la scalinata di via chiarizia fino al sagrato di san leonardo rimarranno vuoti e silenziosi così come deserte resteranno le strade più larghe del centro città che la processione normalmente attraversa in una cornice di folla silenziosa e in lacrime l'arcivescovo di campobasso da solo come ha fatto papa francesco in queste settimane pregherà davanti al carcere e dopo aver idealmente attraversato via l'elena il corso solo il ricordo di ognuno arriverà a santa maria della croce per il rientro della dolorata e del cristo morto che quest'anno non avverrà le note del teco vorrei a partire dalle 18 del pomeriggio arriveranno nelle case attraverso tele molise con lo speciale dedicato alla processione chi vorrà potrà cantare alle finestre o ai balconi perché in un modo o nell'altro il venerdì santo a campo basso non trascorra senza avere quello struggimento che riesce a dare ogni volta ogni anno quella straordinaria preghiera che è l'inno alla dolorata